Oggi vi portiamo a fare un giro per Bevagna. Sei pronta Marti? Prontissima. Ma quante ne sono successe qua a casa della nora? Tante. La pasticceria. Ma quando papà ci ha detto che la regolino ero. E' stato bello quel momento. Qua? E' quando Ludo mi ha dato il primo fiore. Vero. E tutte le volte che abbiamo litigato? E tutte le volte che abbiamo fatto pace. Infatti. Poi stavamo in cameretta, io e te serena, a raccontarci i nostri segreti. Io davo consigli a te, tu davi consigli a me. Sì. Questa è la nostra scuola. Quanti ricordi? Il primo giorno. Praticamente io ero arrabbiatissima. Sì, invece serena era contentissima. Non direi che poi io ero tanto contenta. Poi qua, ti ricordi quella mattina? Quella dello scherzo. La scherzo di Nicola. Dovrebbe essere già suonata? Sì, da un bel pezzo. Chissà com'è. Ah, infatti. La campanella non suona, sono le 8 e 20. Ah, qua ho conosciuto Flora, la nostra insegnante di ginnastica. Che mi ha fatto tornare la passione per la ritmica. Tutte le volte che hai litigato con Benedetta. Ma sì, una volta pure in presidenza siamo finite. Il catalano, come scordarsi di loro? Sì, grazie a noi sono migliorati. Sono migliorati tantissimo. L'interrogazione di matematica, che hanno preso 6. Ma è giusto. Vi prendete un 6? Abbiamo preso 6, qui no. Questo è il portone del teatro, che è il posto più importante per me. È fantastico. Marti veniva qua a suonare e a nascondersi. Ci sono un sacco di bei momenti qua dentro. Tipo quella volta che Nicola mi ha raggiunto e mi ha fatto una sorpresa bellissima. Sì, che poi proprio sul più bello è arrivata Serena. Serena, sì. Bravi, bravi. Quella volta che Nicola mi ha fatto il video e l'ha postato sul sito della scuola. Che poi ovviamente lei si è subito scaraventata su di me. Quella volta che ho portato Sara a teatro. Che ero triste praticamente per consolarmi e mi ha mostrato il suo luogo segreto e abbiamo parlato. È stata la prima persona che ho mai portato a teatro. È stato bellissimo. Sì, è vero. Sara, adesso dove andiamo? Ho un'idea. Vieni. Ok. Ci sei? Ci sono, ci sono. Andiamo per qualche piccoletto? Andiamo, andiamo. Questa è la piazza dove usciamo? Sì. È stato il primo posto che abbiamo visto quando siamo arrivate a Bevagna. Quanto ricordi. Quanto mi lamentavo quel giorno. Si è lamentata un sacco. Sì, ma perché mi facevano male i piedi ed ero triste di essere qua. Oppure... Quella volta che Benedetta è uscita dalla limousine. Sì, con quella limousine così bella. Era invidiosa. Sembrava veramente un pavone d'alba. Sì, però stava per uscire con Ludovico e... A proposito di Ludovico, qui è dove l'ho visto la prima volta, no? Ti ha guardato. Ma chi? E Sara non voleva ammettere che fosse carino. Beh, sai come sono fatta? Però in realtà lo pensavo. Eh. Ancora non ti sei abituata alle salite? No. Certo. Avresti mai detto che ti sarebbe piaciuto un posto così bello? No. All'inizio proprio non lo pensavo. Invece mi sono ricreduta. È bellissimo qua. Quante cose sono successe? Quante ne succederanno? All'inizio proprio non lo pensavo. All'inizio proprio non che sia assolato. All'inizio vagy solo non lo pensavo. All'inizio proprio non lo pensavo con i,. Grazie per la visione